ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellwaz episodio 18 della nostra partita con Villand in Europa Universale S4 siamo impresi siamo presi con le conquiste di questa gente chi è che si arrabbia ora? c'è il clero che è troppo potente ma abbiamo visto che ad agosto dovrebbe sistemarsi da sola la faccenda intanto stiamo qua allora visto che io andrei così 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 allora ragioniamo un secondo potrei mettere questa ma tanto non si sviluppa abbastanza velocemente lo stesso la prossima e fra 30 anni dovremo riuscire a prenderla dopo che sarebbe Global Trade che comunque si dovrebbe diffondere un po' ovunque quindi non è così fondamentale Ship Trade Power Propagation non ci serve nel senso che l'unico punto dove dobbiamo avere il trade alto è qui negli altri anche se dovessimo avere solo l'1% di trade siamo gli unici col mercante non ci serve questo non ci serve questo potrebbe servire questo potrebbe servirci questo non ci serve questo non ci serve quindi la scelta è tra quindi la scelta è tra Religions War o Prestigious Conversation conversion allora c'è da dire che noi andiamo decisamente piano decisamente piano quindi io provererei a prendere questo nel senso che se fossimo con un'altra religione con l'Etiopia per esempio con gli Sciti quando eravamo copti appunto con gli Sciti con la Persia convertevamo talmente veloce che questo bonus qua ci dava una quantità di prestigio incredibile adesso invece convertiamo una provincia ogni due anni e non è che siano neanche provincia con tanto dev francamente e siamo decisamente lenti quindi per ora io eviterei cioè comunque non è un bonus secondo me abbastanza valido intanto finiamo questa guerra qua dobbiamo vincere questo assedio e poi possiamo farla tra l'altro appunto questa pace qua dovrebbe valere di meno dovrebbe valere di meno infatti vale solo 65 posso anche importi Force Religion e basta così dai Force Religion a te e qua non c'è nient'altro da fare quindi non è che facciamo così e basta a posto qua possiamo fare il claim ma adesso riportiamo le truppe a casa perché c'è da preparare la spedizione verso sud e non gli farò fare il tragitto alle truppe quindi prepariamo anche le navi con il nostro porto principale dalware nativa frozen in panama va bene ora abbiamo un nuovo debito 225 ottimo benissimo 265 mamma mia quanti ducati per un debito va bene così quante truppe posso reclutare io ancora un po' si possono reclutare qua no ancora tre si ma non hanno un power finita molto rapidamente questo check upper Canada allora la prossima provincia potrebbe essere o questa o questa 500 è la stessa identica cosa solo che questi qua sono più cattivi quindi iniziamo con questi cioè letteralmente questi qua sono i nativi più forti allora our colonies be stuck of Roman Feather no allora Roman Feather io non capisco aha perché uno dovrebbe scegliere questa posizione di questa a coloni quarantina perché Roman Feather potrebbe diffondersi potrebbe diffondersi sì ma meno 30 è troppo questo cioè siamo ancora in una fase in cui quei rallentamenti ci costano troppo poi andando avanti nel tempo ogni colonia conta di meno per noi quindi c'è quel fattore lì qua se dovessimo prendere questa saliremmo di brutto oh bella costa il center of trade se dovessimo prendere questa saliremmo qui a livello dell'Austria ragazzi saremmo che è diventato imperatore allora qua abbiamo convertito institution spread così qua in Belize arriva prima magari in tempo 28 non lo so vediamo ah no questo qua non è un territorio mio quindi ciapala perché questo non posso ma forse sto facendo i corpi andiamo di far arrabbiare un po' quelli a nord non arriveremo mai in tempo ecco lì bene uno se n'è andato ora qua si ribelleranno un bel po' quindi stiamo attenti però dobbiamo per forza farli ribellare in questo modo dovremmo essere ok per il futuro questi perdono non possiamo prometterci sta cosa purtroppo e vabbè a proposito io potrei andare a prendermi del manpower potrei andare a prendermi del manpower qui ma è talmente poco 3000 oddio ne guadagnavo davvero poco che noi non abbiamo più adesso iniziamo a guadagnarne top muster ha problemi religiosi bene tu ti metti il mouthful per ora dai che qua si devono rivoltare ok c'è morto il tizio qua mettiamoci l'esploratore e tu continua a cazzeggiare qua attorno cosa fai? protect trade panora ok ci hanno scoperto qua si sono attaccati tutti cavolo però è un'ottima occasione adesso per andare avanti si sono appiccicati tutti ci posso conquistare tutto si sono appiccicati tra di loro cacchio e tu non ti muovi più 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 tu non ti muovi tu non ti muovi più non si muove più nessuno quindi questi si muovono ok va bene ma non ci interessa visto che non si muovono più aspettiamo tranquillamente e torniamo qua quando abbiamo bisogno tanto anche se gli spagnoli che stanno finendo questa colonia dovrebbero iniziare a arrivare qua e sono sicuro che gli spagnoli andranno o su Manhattan o su Massachusetts però pazienza noi dovremmo essere ok perché tanto gli spagnoli non hanno interesse a mandare i soldi qua quindi se gli spagnoli qua colonizzano i soldi vanno a nord qua ne spostiamo addirittura a 8 ah vediamo se 32 no non è disposto ad agire in maniera diversa io voglio l'esploratore qua facciamo di fare un posto giro ah allora potevo pensarci prima non ce l'avevo pensato wow quanto dead fish che fortuna poi invece ah navas supplies è quasi finita questa è quasi finita continuiamo a esplorare questo non mi serve più ecco potremmo prendere la tecna non ci frega poi siamo a posto ora potrebbero rivoltarsi qui qui e qui e poi possiamo abbandonare il nord ci prepariamo alle guerre per le ande bene purtroppo non posso fare la ricerca delle sette città perché la mia capitale è nel nuovo mondo uno di innovatività no anche se local development 5 non è male vabbè facciamo questo e amico non è che posso fare molto vediamo se posso darti qualcosa tra l'altro sarebbe il caso di renderti contento così ti tolgo dal Messico allora ti potrei dare questo Belize poi vediamo un po' questi preferisco di no questo almeno due felice ecco potrei fare questo andremo head of time probabilmente sì comunque siamo ancora dieci anni indietro rispetto al primo che ha fatto questa tech che ci dà tattica però dobbiamo aspettare qua tra l'altro interessi per anno no adesso non le prendiamo più questi quindi facciamo questa iniziamo a tornare un pochino pari più su tech amministrative che non è la cosa migliore però d'altronde ah ok allora sì non è una provincia completamente sviluppata quindi non possiamo andare ancora qua native uprising in Panama abbiamo tre colonie adesso vediamo un po' e riesco a starci dentro ragazzi sono molto felice no qua aspettiamo di poter fare le tech prima di fare le tech prendiamo i debiti qua ha il valore continuo a aumentare perché sto continuando a conquistare territori dove non c'è l'istituzione a questo punto possiamo aspettare il 28 per avere un micro bonus qua scende non ci possiamo fare niente Panama is finished allora qua fai così 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 e poi voglio esplorare qua così quando dichiariamo guerra siamo più forti di conseguenza tu ora ti sposti qui quanto costa? se non ci fosse quel più 25% potremmo già prenderla sapete una cosa? ok ok potevo fare l'ultima idea ma va bene lo stesso anche perché tanto ora la Scozia è difesa quindi va bene così abbiamo ancora un balance tech ma abbiamo delle truppe decisamente più forti allora andiamo sempre per l'attacco e qua non ci sono scelte quindi va benissimo così ma è aumentata la tattica cosa fa il portogallo? claim su di me fa claim su di me tanto qua non è ancora nata la loro colonia cioè posso già ripagarmi un debito? lol come mai? va bene ottimo perché potrei attaccare lui tu sei alleato proprio con quella lì ora sei in guerra con Cusco anche tu? no quindi potrebbe essere il caso di attaccare a te che magari quell'altro non ti aiuta ma per ora no questi teoricamente ancora non hanno navi allora musica è inutile controllarlo questo qua si chiama chi qualcosa chi 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 ricchi di felicità si navi non ne ha però ha un force limit va bene mentre a livello di truppe chi 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 mu 16 con 12 se no ci serve tutto il nostro esercito tutto il nostro esercito cioè per ora facciamo così vediamo quanti soldi in meno ci saranno qua un bel po' ma va bene lo stesso cioè insomma non è la priorità vai esplora tra l'altro è rischioso perché qua ci sono i ribelli no? cioè i nativi e dovremmo affrontarli tutti chissà quando scopriremo il laghetto qua dentro Magawa beh vediamo di far arrabbiare qualcuno così si rivoltano un po' prima magari anche questi Caraibas 07 anni manca mo' vediamo di ritradarlo un attimo perché voglio prima che ci siano le rivolte qui seconda riforma complimenti ok comunque sappiamo che lui tiene le truppe qua ora vediamo di esplorare un po' la faccenda così ci prepariamo quell'attacco sostanzialmente posso mettere un po' di stati però preferisco aspettare ancora a questo punto cerchiamo di fare almeno la prossima tech qui bene ne posso avere tre adesso forse il colonialismo me ne ha dato un altro mamma mia che schifo cioè davvero fa pietà ma che schifo siamo molto sfortunati ah ribelli questo non ci serve più gli inglesi stanno avvicinando quindi qua il clima lo abbiamo fino al 34 potrei fargliene un altro innanzitutto ti sputo così impari ok i castellani dove stanno andando non si vede non si vede non si sa la Spagna sta facendo cream su di me vediamo dove qui ah ma perché ha finito le idee insomma perché ha finito le idee dobbiamo ripagarci i debiti a posto anche qua ci siamo allora io voglio iniziare a migliorare le nostre relazioni con la Francia perché di sicuro si odia quella Spagna che tra l'altro è nata ah ok hanno unito le casate il tech 10 annessione di e anche l'Austria è diventata più potente però l'Ungheria si è fatto appare almeno quattro province da pori là ok uron 90% no no spostati facciamo in modo che si ribellino 90% un anno e tre e un anno su quelli dei Caraibi quanta gente sarà 8 8 17 tu rimani qua da solo e poi iniziamo a portarne via un po' allora questi qua Lock and Arrest o Lock and Arrest 2 dove? no le noppe non voglio che ci siano ribelli bene chissà da Spagna dove sta andando perché adesso ha questo comunque qua non serve più questo qui bene è solo quello là che è quello che ci serve ora stiamo portando colonialismo ovunque va bene anche se questi diventano più grossi non ci interessa ora sono proprio tutti appiccicati cacchio sì ma non si muovono più quindi rimangono lì per un bel po' il clero aumenta l'influenza oh il clero aumenta l'influenza e la loyalty sono già 58 però e francamente sarebbe da far questo 68 73 adesso facciamo così per quanto riguarda questi qui ok devo ricordarmi di tenerlo sempre su non riesco a ricordarmi sempre 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 va bene ah qua c'è un pistolino allora scopriamo questo 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 anzi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 perfetto con la francia quindi come la mettiamo perché non posso avere almeno 50 ok Desmond vabbè gli inglesi sono colpati Desmond tra l'altro gli inglesi potrebbero attaccare questo e attraverso questo attaccare la Scozia e la Norvegia non esiste più ci sono i danesi danesi che sono fatti fottere delle province da parte della madre Russia che è molto forte in sta partita 250 sì prima di fare le istituzioni magari era il caso di prendere questo ma avremmo pagato di meno eccetera 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 però va bene lo stesso per ora queste qua continuano a aumentare forse perché abbiamo convertito questa rimane fissa 66 purtroppo e non va bene dobbiamo cercare di migliorare la nostra situazione il prima possibile quindi prossima idea al 100% saranno queste di sicuro queste e dopo andremo di quantità credo che questo sia l'iter dopo le quantità o prima delle quantità potremo fare il trade dopo offensive e a quel punto potremo iniziare a fare qualcosa di diplomatico ma vediamo un po' come si sviluppa la faccenda bene ragazzi dai per oggi ci salutiamo qua abbiamo esplorato un po' gli scolzesi non hanno ancora finito la loro colonia gli inglesi stanno andando avanti ma molto piano quindi vediamo un po' quanto ci mettono per ora ne stanno facendo solo due non sappiamo se andranno verso nord o verso sud la mia intenzione non è quella di andare troppo potentemente nell'america del sud però se mi lasciano una colonia così gliela andremo a rubare al 100% questo è chiaro adesso qua i portugaisi stanno spingendo ancora nei caraibi aspettiamo che nasca a rinata caraibas non abbiamo ancora adesso caraibas qua starà facendo collect a cuba ah si chiama cuba adesso non più caraibas ok quindi vediamo se c'hai il reconquest non hai il reconquest perfetto non hai il reconquest ma hai tutti i claim del mondo va bene dobbiamo attaccarla noi prima che lui attacca faccia il contrario insomma perché sennò ci sarebbe dentro anche la Spagna e non dovrebbero avere tanti trasporti loro non dovrebbero avere tanti trasporti però noi invece ne hanno 25 quindi la Spagna teoricamente ci ammazza a 11 navi pesanti l'Inghilterra ne ha 18 il Portogallo l'abbiamo segato per bene l'ultima volta ne ha solo 14 noi ne abbiamo 10 23 dovremo iniziare a fare qualche nave pesante e qualche altro trasporto francamente per avere una flotta che competa con queste altre tra l'altro c'è pure questa no questa qui si dobbiamo procedere un po' avanti con le missioni perché alcuni bonus ci servono questo qua lo teniamo per la prima guerra contro le potenze europee perché ci serve assolutamente quella e questi altri non sono bonus militari sostanzialmente questo qua si deve tenere per quando c'è l'assolutismo quindi vediamo di arrivarci così abbiamo rush treatment meno 33% gli altri non sono decisamente bonus militari in senso questo si ma nella singola guerra quindi possiamo metterlo quando vogliamo questo qua neppure quindi teniamoci questo per la prossima guerra qua mancano ancora un po' di workshop ma non abbiamo provincia dove valga davvero la pena costruirli adesso quindi aspettiamo dai ci salutiamo qua ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi gg a tutti